Il progetto De Gusta è un progetto che Unapro, Cortiretti e Fondazione Evo School ha intrapreso in collaborazione con la Rinascente per cercare di avvicinare le persone al mondo straordinario dell'extravergine di oliva. Significa conoscere, significa gustare, significa essere consapevoli su che cosa significa la qualità italiana dei nostri prodotti. Allora, nei nostri incontri ci conosciamo e conosciamo l'olio. Cosa cerchiamo di fare? Stimolare l'attenzione delle persone attraverso un racconto emozionale. Raccontiamo cenni di storia, raccontiamo la composizione dell'olio, quindi le componenti chimiche e le modalità estrattive. E dopo un percorso appunto di narrazione ci avviciniamo alla conoscenza diretta dell'olio, ovvero degustiamo i nostri oli al bicchiere, utilizzando una tecnica molto semplice che è quella del degustatore, ovvero ci avviciniamo al naso, quindi cerchiamo di sentire tutti gli aromi, le qualità emozionali dell'olio e poi lo degustiamo con la tecnica che noi facciamo dello strippaggio, ovvero cerchiamo di dare all'olio la sua massima capacità di espressione, emozionandoci per il gusto. L'obiettivo è quello di avvicinare le persone all'olio extravergine di qualità italiana. Noi abbiamo più di 500 cultiva, abbiamo una ricchezza straordinaria in Italia. L'olio non parla italiano, parla il dialetto. Ogni luogo ha il suo olio, ogni luogo ha la sua caratteristica. Ecco, da oggi, dopo l'incontro che facciamo, tutti sono in grado di cambiare il proprio alfabeto. Non esiste l'olio, esistono gli oli. Non esiste un solo olio, esistono molti oli per molti abbinamenti. E questa è la straordinaria capacità dell'olio, portare le sue capacità nutraceutiche, perché questo è un farmaco, non è solo un condimento, e migliorare la qualità dei nostri piatti. E migliorando la qualità dei nostri piatti, si sostiene la produzione italiana, che ha degli oli straordinari.